ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video chiedo scusa ho portato pochi video in questa settimana come sapete ho restato dentro di giudizio lunedì e ancora adesso mi fa molto molto male quindi cerco di parlare meno possibile parlare di pazienza oggi ho fatto il video come avevo promesso in fine settimana di portavane uno ho fatto uscire anche residenti volo 5 e oggi adesso faremo vedremo insieme delle offerte di amazon che io vi proporò ok e vi dirò la mia opinione adesso ogni settimana da adesso in poi il fine settimana o sabato o domenica farò uscire un video di amazon con almeno dieci prodotti al suo interno e ovviamente vi metterò in descrizione del video i vari link con il mio rafferrari link quindi quando voi comprate l'oggetto voi lo pagherete uguale ea me amazon riconoscerà una piccola percentuale e questo aiuta il canale no quando magari compro le sim compro le varie cose per il canale fare i test tutto aiuta e tanto a voi non vi cambia niente basta che avete insomma amazon usata e comprata dell'oggetto in questione e basta insomma è ok direi di non perdere troppo tempo di iniziare col primo andremo a vederlo insieme ok cos'è questo vi spiego un attimo cos'è allora è un telecomando di ricambio per ieri per tv telecomando vocale universale originale telecomando per invidia shield tv box pc iptv proiettore allora io l'ho provato sulla mia smart tv lg ok ho provato perché volevo vedere se riuscivo avere un unico telecomando senza comprarmi le leggi e che costa mi pare 40 50 euro di più del doppio ho detto provo sto qua quando l'ho comprato io questa va di meno e non era 18 euro ma il parere fosse 15 15 16 si un paio di ari o meno insomma cosa fa questo è un telecomando programmabile che funziona anche come mouse dipende da televisione a televisione io quello che vi consiglio di fare o chiedete al venditore qualche domanda ma molto difficilmente vi darà informazioni utili oppure lo provate come ho fatto io collegate il questo che vedete il connettore all usb della televisione e lico il telecomando una volta che lo configurate con i tasti funzionerà allora il volume il cambio canale lo spegnimento e poi il microfono non l'ho provato la spegnimento normale si non funziona il discorso di andare sul menu tipo la casetta c'è l'internet neanche sulla mia lg tv però ogni televisione al suo può anche darsi che abbia sbagliato qualcosa che ho approvato più volte sono uscito configurarlo in parte quindi il capitolando quello che ha funzionato a me sono il cambio canale il volume la sessione lo spegnimento pausa quando vedevo i video su youtube lo stop ma non ha funzionato l'home tornare indietro l'internet explorer le frecce di navigazione quelle quelle più però funzionava abbastanza bene insomma dai non male come se voi so se avete mai provato no collegare un mouse all'uscito vestibili di attivisione e usare il telecomando così con una legata su internet è più facile cliccare i tasti no è una cosa del genere come prendere queste due cose con insieme mettono insieme può lasciare che sugli android tv box sia più facile anche se su tv box cosa l'ho usata a fare cioè volume su volume meno si i comandi stop pausa avanti indietro può darsi i numeri forse magari si scrivete ma io penso come smart tv non può essere usato unicamente purtroppo no questa è la mia risposta però se a voi vi interessa avere un telecomando da usare come telecomando standard e che magari abbia la funzione della migrazione senza che abbia magari l'home tornare indietro così erano varie d'alternativa però è una cosa che funziona al 70 per cento ok perché a fin dei conti il microfono va lo spegnimento del microfono nuova la pagina dell'interno tornare la roma tornare indietro certe cose non vanno non tante magari a una persona che mi interessa può anche prenderlo io le cose che devo dire gli ho dette poi ovviamente sta a voi ecco decidere se comparlo no il prezzo ci potrebbe anche stare la fine conti perché come se avesse tipo una tastierina wireless collegata televisione grosso modo fa quello per la tastierina fin di conti non spegnetevi giorno non fa quelle cose lì quindi potete vederla un'alternativa di quella se le tastierine processioni costa di meno anche quello è vero allora io secondo me penso che sia anche buono il prodotto però non è completo quindi vi ho detto cosa va e cosa non va poi sta a voi decidere se avete domande io sono qua sotto e sono qua allora andiamo al secondo video questo è una cosa che io ancora adesso utilizzo cos'è questo ok è una specie di doc ok allora voi collegate la spine alla corrente le varie usb allora la prima in alto va a 2 ampere e 1 e anche la seconda poi va una per una per impara 0,5 0,5 è utile ok io l'ho comprata con prime e costava mi pare 13 99 3 euro in meno ma ho preso un po di tempo fa ancora il 21 gennaio e la usa ancora tuttora e la uso per caricare il router portatile i telefoni i tablet alla fine conti sul lavoro lo fa ok non è male però cosa c'è di bello che lo schermino vi dice il voltaggio che esce da ogni usb e lo tiene sotto controllo e lo eroga in modo che sia uniforme non che sia ma che ne so spara sapete noi caricatori da muro in linea di massima quelli parli quelli standard che non quelli costosissimi non hanno un controllo del voltaggio o meglio ce l'hanno ma sballano sono date analizzarlo con un tester o attrezzi simili vedrete questo questo qui invece fa in modo che sia se non che sia altalenante ma che sia uniforme l'uscita della corrente per ogni usb e questo è importante per la batteria che per preservarla infatti io utilizzo questo le cose da 0,5 potete usarlo perché ricaricano solo su un smartwatch o magari fit band roba che non ha tanta batteria illuso per caricare anche il router in realtà con la portata quindi funziona fine batteria è grandissima lasciate di taranotto l'uolo carica perciò io mi senti proporlo per voi poi come ho già detto ce ne sono magari anche gli altri però questi gronding la marca tedesca anche se dovessere a costruire in cina sicuramente il materiale non è male al tatto un po pesantuccio il cavo abbastanza grosso quindi secondo me non è male a fin dei conti terzo oggetto questo io l'ho preso il 23 gennaio finiscono non è male cos'è questo vi faccio vedere un paio di foto così capite bene sia un selfie stick sia un treppiede ma cosa di diverso dagli altri cosa che è il primo che ho visto fin adesso è questo a qui in alto su zoom vi faccio vedere vedete quel quei due led che si vedono a due opzioni di luce luce forte luce bassa non è regolabile non è dimmerabile ha solo due suite perché è utile perché se vi fate un selfie o fate magari una live che ne so siete in giro avete dietro con voi ring o cose così è una valida alternativa illusato fatto qualche video così non è male si carica via micro usb quindi non tacci la batteria dura intorno alle due ore più o meno non è grandissimo però al suo dovere lo fa e vuole un portavolo perché secondo me è interessante quando l'ho comprato io c'era sia bianco che nero può lasci che cercando nel nel link del negozio magari c'è anche il nero io vi elenco il bianco che quello coi io il materiale non sono male plastica dura ok non è eccessa e il bastone è in alluminio tipo l'alluminio che usate per i pali del tirare giù i vestiti con una volta una cosa del genere questo è più tenero però il materiale quello lì al tatto terzo oggetto eccolo qua questo è una cosa importante l'ho comprato in sconto non costava 24 99 a un coupon sapete noi vari canali ci sono stelle da così e l'avevo pagata mi pare 15 euro non è male perché e se vi spiego cosa questo allora questo va corrente non era batteria interno che come vedete qua su vari tasti lui sia la luce dimmerabile da comodino e sia alla possibilità di fare i suoni rilassanti mi pare sia una ventina di suoni se mi ricordo male che ne so fate fatica a dormire c'è la pioggia c'è il ruscello c'è gli uccellini c'è tanti rumori che aiutano io ne ho uno faccio questo e c'è un altro piccolino che ha rumore da pioggia e io purtroppo soffro spesso di risvegli notturni adesso ho preso una camilla più potente e mi aiuta però questo 26 suoni naturali eccoli qua questo aiuta molto rilassare e c'è la possibilità di essere 12 lo comodino scuola a livello estetico non è brutto ok al tatto sotto è proprio sembra il casco pantaloni jeans e carino lo mettete lì sul comodino non stona con l'arredamento il bianco la robina con tutto il grigio l'obini con un grosso modo tutto non stona mi consiglio io vi consiglio se volete il bambino magari volete fare adormitare senza così potrebbe funzionare oppure anche per voi se avete stesso problema mio ecco quindi sicuramente io ve lo consiglio ci sono diversi prodotti sono diverse categorie questo a entrambe le cose e io l'ho usato da un bel po l'ho comprato il 31 gennaio ormai ce l'ho da abbastanza ed è buono è un buon prodotto fin adesso va quindi io mi senti di consigliarlo ripeto non ha la batteria interna quindi va solo con power bank ho presa via telefono che al casco micro sb insomma io se fa vedere come vedete c'è anche il jack è un buon prodotto ragazzi io ve lo consiglio fidatevi che se avete problemi di dormire o lamentarvi fate questo e non avrete più problemi allora sto parlando mi faccia sta facendo male adesso agenziva però ci tenevo a far sto video quindi ecco spero apprezzate quello che sto facendo insomma allora il prossimo cos'è è un convertitore tastiera mouse bluetooth con supporto telefono adattatore tastiera e mouse per android ios cos'è questo allora lui sto fatto per bug bug survival vabbè però certe applicazioni sono compatibili questo aggino qua verrà collegato con un'applicazione al telefono e voi a sua volta collegherete il mouse e la tastiera a lui il potere utilizzare mouse tastiera collegate al telefono senza dover avere magari l'otg o cose così con lui dovete scaricare un'applicazione e vi farà usarlo questo è fatto per il gioco ma ci sono diverse applicazioni che magari di office così potrebbero servirvi non ce ne sono molti che offrono questa opzione qua e quindi io ho voluto portavolo se avete delle domande volentieri io sono qua non c'è tanto da dire per ai fini conti è un semplicemente un supporto wireless che vi permette di usare alcuni accessori collegati al telefono via guarda adesso ovviamente non vedete tastiera mouse via wireless wireless connection con un'applicazione sua che dovete scaricarla ma c'è già dentro al suo interno di bricino e potete usarla insomma ok prossimo vabbè ok chi è che non c'è tanto da dire sui microsd no perché vi ho portato questa micro sd io l'ho comprata di recente questa qua ma ne ho già un'altra che ha un paio di anni uguale questo è un modello 2020 il prezzo è onesto 11 99 64 gigabyte generalmente vanno bene per tutti voi tutti noi insomma se c'è le persone più esigenti e bisogna del 128 allora allora in quel caso lì ok perché il prezzo è onesto è durabile ci sono anche memorie contraffatte questo dovrebbe essere venduto e spedito da amazon vediamo un po nuovo nostro altro amazon spedito da amazon venduto della memoria diretto ma c'era anche comunque venduta spedito da amazon ok basta solo che guardate insomma ecco se non vi fidate del da questo 99 per cento ea 11.565 stazioni quindi direi che questo è affidabile controllate bene vi metto in guardia ci sono alcune volte capite trovare la 256 giga samsung che sembra uguale poi contraffatta sono quelle tarocche no cinesone sono come chiamate come volete magari la parata veramente poco e non dice cavolo una deduzione scuola 6 giga solo 30 euro 40 euro invece purtroppo non è così quando la provate scopriete che ha molti meno gigabyte in questo caso no generalmente le memorie di fascia bassa 64 32 fino al 128 generalmente guardate il feedback del venditore e passa insomma siete sicuri ecco può capitare che la micro sd di qualsiasi marca si falla come sorella è successo nel 32 giga samsung diverse anni fa ancora e si era bruciata da sola così usandola può capitare è raro ma può capitare io ne ho una uguale che a due anni abbondanti e va ancora bene questo l'ho comprata per il tablet però quella prima che ho prima che ho ancora adesso tutto su telefono va ancora bene quindi mi metterò link in descrizione insomma se poi volete acquistarla come ho già detto fate datene aiuto a me al mio canale allora prossimo passiamo di un'altra categoria cos'è questo ok chi ha la nintendo switch come saprà benissimo che io la uso sull'indoc ok non la tiro mai fuori dalla doc e quindi con lei prima che la polvere si riposita sulla switch sapete che no switch purtroppo essendo una console ibi da ciai joy con che si staccano ovviamente staccate voi ma soffre di un problema derivati ai joy con che la polvere si va all'interno dei contatti e comincia a morsi da solo non prende bene i tasti nel mio caso non è mai successo però anche per io uso un controller esterno per non doverle staccare attaccare caricarli questo è utile per uno proteggere la polvere due per comunque insomma evitare quel problema di il prezzo è onesto il materiale è tessuto un tessuto tipo quello che usate da si chiama quello i beauty case più o meno una cosa del genere è molto semplice che la si come vedete la si aggancia e basta molto semplice uno portavo da perché so che magari c'è chi come me che magari a console e vuole trovare un oggetto per coprire senza spendere tanto il prezzo non è regalato che 12 99 ma il materiale non è male possiamo dire che sia un prezzo onesto alla fine conti poteva costare qualcosa in meno ma nessuno regala niente dai la fine conti non è che si strappa per usato che è buono io penso che ci potrebbe stare un prezzo è voluto un attimo portavolo per capirlo insieme ecco il prossimo oggetto questo è l'oggetto che io uso tuttora io ho pagato 14 e 99 cosa non so perché ha scritto dispositivo medico vabbè non aveva nessuna recensione io ho voluto dire ho voluto parlato dove proviamo non anche vada faccio reso e ancora adesso 25 aprile ho preso va va bene alla fine io ho registrato quattro episodi di residente del 5 quello di oggi il 3 2 l'uno e va bene insomma vedete un pochettino lagga ma non è di presa da questo insomma è di presa del mio computer che fa quello che fa ok secondo me ci può stare 13 39 vi spiego come funziona allora magari ecco con questa immagine è meglio tra l'altro adesso costa 13 09 quindi due euro e meno quello che ho pagato io quindi non è male il materiale metallo quindi sembra durevole voi attaccate il type c al computer se avete il type c altrimenti vi verrà fornito con l'adattatore che è un 3.0 e lo collegherete allo cb ok qui ci collegate il cavo hdmi che il posto è collegato attivisione lo collegate qui ho usato in programma come ov s che uso io ok dovrete configurarlo ma all'interno delle delle schede d'acquisizione ci sarà un foglietto vi spiegherà passo per passo come configurarlo in inglese ovviamente per l'accessorio c'è per il programma che usate molto semplice io l'ho configurato subito della prima volta che usavo questi questi attrezzi qui insomma non è male prezzo a fine conti non spendete tanto se avete pretese media come me non da youtube ad registrare in 4k ci può stare lui registra fino a full ht e vedo che la registrazione alla fine conti non è male io lo uso con lo switch perché ho solo un switch direbbe provarlo anche con un'altra console se anche voi l'avete magari scrivete qua sotto se avete usato complessi un 4 xbox cose così il prodotto è buono io penso che a fine conti sia valido è semplicissimo da usare e vedo che è stabile non scalda però che essendo l'umino di si fa bene il calore quindi anche per quello che magari non lagga molto molti sono in basche e le lagga un pochettino ce ne sono diversi anche costano di meno ma io vi consiglio questo perché ce l'ho da 5 aprile qua da un mese ormai sì perciò vi lascerò il link descrizione e poi se volete acquistarlo se avete domande benvenga io sono qua disponibilità solo uno penso che sia l'ultimo poi magari ritorna non si sa allora prossimo molto interessante questo cos'è questo allora potete utilizzarlo come tavolo da pranzo vabbè io non ve lo consiglio ma potete farlo sì magari siete in macchina mangiate in macchina ok però lui è fatto principalmente per metterci tablet o telefono o computer questo fino a 17 pollici senza il tap il tappo non è staccabile il mouse pad non si può togliere che rimane è appiccicato c'è io ho un 15 e 4 no 15 6 e lo utilizzo bene lo uso quando sono sul letto che magari voglio farmi una partita senza dover star lì perché però non scrive né io avendo portatele si può fare questo anche per lavoro può andare bene insomma e vedete trasportabile alla maniglia è molto soffice soffice dietro quindi se ho posato sulle gambe non vi dà fastidio questo qui è posato per i polsi non so se c'è un'immagine che fa vedere il secolo qua vedete se metterci il tablet lei volendo e guardare i film che non so col tablet ovviamente senza custodia suppongo perché dipende anche la tavola quanto grande è come un 8 pollici non penso di più non ho provato con più grandi potete vedere usarlo anche come posa libro che ne so altre cose c'è non è male il prodotto il operato 14 99 ma l'ho visto una volta 9 99 io vi consiglio di tenerlo sempre d'occhio è un buon prodotto è un po ingombrante ma io vi consiglio che scome ognuno di noi dovrebbe averlo in casa una cosa del genere o per mangiare o per scrivere posare al computer se magari lavorate al computer anche voi o anche se siete magari studenti è trasportabile mettete una zaino le portate via siete magari all'esterno siete magari come sta ragazza insomma sì nel giardino potete farlo ecco il prodotto secondo me è valido io ve lo consiglio poi sia intanto sulle promozioni costa di meno queste disponibilità dal 5 giugno con prime no vediamo se con prime si è spedito da amazon compagno non potete mettere nel locker io generalmente gli oggetti li faccio arrivare nei locker no sono più comodi lavorando finisco lavorare vado lì ritiro via sto caso qui lo faccio arrivare c'è nelle edicole che hanno il counter no potete mettergli l'oggetto e appunto potete con sono ritirarlo con comodità ultimo oggetto di questa settimana io di queste mascherine qua non comprate 5 no 5 pacchi per me e un pacco come mio padre perché 50 pezzi 3 euro 69 con prime il materiale non è male vi spiego voglio entrare nel dettaglio allora l'elastico è tenero non vi da fastidio l'orecchio la mascherina di per sé aderisce abbastanza bene allora al naso non è male ok ma c'è il non è sterile ovviamente earlop earlup la scatola che vi arriva può essere questo con questo di altri la mia era fatta in inghilterra scritto made in england ok perciò al tre strati design a tre strati sale il ferretto per regolarlo si respira bene ok non è male devo dire che si sente anche abbastanza leggero se vuoi soffiate l'accendino non si spegne sapete c'era tempo fa un video che parlava di sa cosa qua no che se la maschera funziona non devi riuscire a spegnere l'accendino attraverso la maschera soffiando no e questo è appunto uno di quelli io ve le consiglio alla fine conti sono mascherine buone vi arrivano una scatolina di cartone ben fatta anche al suo interno un sacchetto chiuso con le mascherine arrotolate tutte insieme non singolarmente per il prezzo ragazzi tra 69 ci può stare che il suo lavoro lo fa non da odori strani quando respirate con questa non vi fa affaticare io la uso otto ore al giorno nel lavoro quindi non mi dà problemi le usate una settimana fin adesso comunque più o meno tre giorni perché mi sono arrivate il 19 maggio che domenica si usate abbastanza fin adesso lo userò anche stana prossima anche perché si va in farmacia ti chiedono per 50 mascherine 20 25 euro cose così ti chiedono una valanga di soldi sì è vero quello in farmacia spesso ma non sempre sono magari con marchio c e questo non ha il marchio c e al suo interno non trovate un tagliandino cosa così anche perché sapete benissimo anche voi che la maggior parte delle mascherine che si comprano a prezzo onesto come sto qua e sono vengono da cina o paese extra europei no funzionano a fare il suo dovere queste meno convinte perché credo fosse la casca mascherina un po economica invece non è male provatela provatela i consigli ho provato in un pacchetto se non vi piace allora fate reso ma io ve le consiglio ne ho provate diverse io comparto diverse mascherine su amazon senza prime che ti arrivano tipo un mese e mese e mezzo dopo sta qua ti arrivano insomma in 12 giorni insomma dipende dalla zona che siete non è male se siete in famiglia anche perché le mascherine ce le dovremmo usare ancora un bel po ragazzi si può fare adesso ci vaccineremo ma secondo me quest'anno a mascherina minimo minimo ce la portiamo dietro dietro il uso lavoro ne cambio uno al giorno e quindi perché lavoro mi danno quella lavabile però è troppo stretta non riesco a respirare loro l'ho fatto mi faccio da anche lì quelle le vendo i soldi che recupero da quelle mi compro queste e vado in pari che ci volete fare ogni azienda ragiona modo suo quindi che dire direi di chiudere qua la nostra nostro primo appunto il nostro appuntamento di amazon e ci vediamo domenica prossima sabato domenica prossimo quello che è un sabato domenica insomma con il prossimo video spero il video vi sia vissuto vi lascerò il link in descrizione di ogni oggetto quindi cliccando voi potete tranquillamente andare all'oggetto direttamente e comprarlo e se avete domande dubbi chiarimenti se avete consigli da darmi cosa così io sono qua e adesso prendono che tasca per mi fa male e ci vediamo al prossimo video e ti vi auguro una buona domenica e grazie ciao ragazzi ciao ragazzi